Vincenti anche nel sociale perché grazie proprio al vostro contributo che questa associazione oggi sta presentando un nuovo strumento per i propri soci. Sì, effettivamente come quartiere Sant'Andrea ci stiamo impegnando moltissimo nel sociale, poi personalmente mio babbo fa parte dell'associazione Parkinsoniani quindi a maggior ragione col cuore abbiamo cercato di raggiungere l'obiettivo che il centro Parkinson si era prefisso, quindi questo macchinario che probabilmente sarà un grosso aiuto per chi ne ha bisogno, per loro, per la postura, per la riabilitazione quindi l'obiettivo è stato raggiunto, siamo molto contenti come quartiere e come associazione. Uno strumento che è nato per lo sport che adesso viene riadattato, come potrà essere utilizzato per queste persone? L'associazione Parkinson che già si occupa di mantenere miglior stile di vita per tutte le persone affette dal Parkinson che fanno parte del nostro entourage vuole aggiungere uno strumento di allenamento per certi tipi di segni e sintomi che la malattia dà. È molto efficace nel controllo della postura e della rigidità e anche nel miglioramento dell'equilibrio perché migliora lo spostamento in avanti del bacino che ha il Parkinson quando cammina.